Siamo ad Andrile nel centro storico, via Paradies, vedete, nel cuore del centro storico andriese, ed ecco, fra un po' andremo alla stradina più stretta. Qui siamo in via Paradies, vedete gli allestimenti, questi cuoricini rigorosamente costruiti a mano. Grazie, grazie soltanto, grazie soltanto alla mano dei residenti. Signora, buongiorno, come va? Bene. Diceva suo marito che va tutto bene, poi io ho detto ovviamente va bene perché voi consentite che vada bene, perché in fondo, diciamo, se fosse per gli assenti, perché molte assenze istituzionali si vedono, non sarebbe andata così bene. Sì, ringraziamo a noi, puliamo le strade, cioè facciamo tutto noi, se non era per noi era un centro storico morto. In pratica questa assenza istituzionale si sente, diciamo la verità, al di là delle cerimonie, delle chiacchiere, la verità è quella che vivono i residenti, quindi sicurezza, igiene, però grazie ai residenti appunto voi fate questa opera davvero meritoria. La verità è di mio marito, fatta solo da mio marito. Vediamo i cuori che la sera saranno splendidi perché illuminati poi hanno tutta un'altra... Sì, sì, è stata un'idea di mio marito e abbiamo abbellito tutta la strada. Noi oggi conferiamo alla signora Enza Ferrara un pensiero. Questo è un attestato di Unibat che viene conferito alla signora Enza Ferrara con questa motivazione. Il presidente Unibat, in considerazione di particolare benemerenza per l'impegno profuso a tutela, salvaguardia e decoro del centro storico della città di Andrea, ha conferito la benemerenza con appellativo di cittadina virtuosa alla signora Enza Ferrara che è qui con me. Signora, questi sono gesti semplici che però esprimono gratitudine, gratitudine da parte non gratitudine finta, non quelle targhe, quelle benemerenze fatte nei palazzi. Questa è la benemerenza di strada di chi vive un territorio che grazie a voi residenti non è morto definitivamente. Tanti auguri, questo è l'attestato di benemerenza di cittadina virtuosa. Grazie, grazie di cuore per quello che fate.